Fissato per il 5 di maggio alle 17, il Consiglio Comunale è monotematico sul Policlinico. Lo ha deciso la conferenza del Capigruppo, che nei prossimi giorni preparerà un atto di indirizzo che sarà votato a fine seduta. Non sarà aperto agli interventi esterni e non ci saranno ospiti istituzionali, perché secondo il regolamento poi non si potrebbe votare un atto precipuo del Consiglio Comunale in seduta regolare. Intanto sul fronte Assemblea Cittadina Pubblica, che si terrà il 2 di maggio, arrivano le prime adesioni da parte della politica. Giancarlo e Azzurra, cancelleri del Movimento 5 Stelle, saranno presenti. Incerta la presenza del deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia, impegnato fino al 3 maggio per la finanziaria in Assemblea regionale. Altri impegni istituzionali terranno lontano Alessandro Pagano della Lega dalla riunione che si terrà al Teatro Regina Margherita. Gli inviti sono stati inviati a tutte le istituzioni, civili, militari e religiose, alla deputazione regionale e nazionale, ai sindaci della provincia, ai sindacati, alle associazioni di categoria. Per ciò che riguarda la petizione per il Policlinico a Caltanisset, sono già quasi 800 le firme, obiettivo arrivare a 1000 prima del 2 di maggio.